Una buona serata dalla redazione di ETV e benvenuti a una nuova edizione del nostro TG che vi ricordo potete seguire oltre che sul canale 12 del Digitale Terrestre anche sul nostro sito www.etvmarche.it, sulla nostra pagina Facebook e ovviamente sulla nostra app. Iniziamo subito con le notizie. È importante parlare della pace ma non basta, occorre che cambi il sistema. Parole forti, parole dell'arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dalcin, alla manifestazione per la pace che si è svolta proprio a Loreto dove hanno sfilato decine di sindaci e amministratori delle Marche. Sentiamo. È importante parlare della pace, è importante la marcia della pace, è importantissima la preghiera della pace ma non basta parlare, non basta marciare, non basta pregare. Bisogna, bisogna che cambi il sistema. Parole forti, quelle del delegato pontificio per il santuaglio della Santa Casa e arcivescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dalcin che ha pregato insieme ai sindaci delle Marche, agli amministratori e ai responsabili delle associazioni arrivati a Loreto per la marcia organizzata dal Consiglio regionale, insieme per dire no alla guerra ma soprattutto per esprimere vicinanza concreta a chi da questa guerra sta fuggendo. Come spiega il padrone di casa, il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, in rappresentanza dei comuni delle Marche. I comuni sono naturalmente sollecitati, fortemente sollecitati dall'arrivo di tantissime persone, soprattutto donne e bambini che arrivano dall'Ucraina e sono qui profughi. Allora l'impegno è forte, l'impegno è continuo e a mio avviso dobbiamo essere tutti pronti a dare veramente un segnale forte di vicinanza a queste persone che arrivano, accogliendone nel modo migliore ma concretamente sia con l'ospitalità ma anche con azioni concrete e soprattutto dando anche vicinanza forte a questi bambini che non debbono sentirsi isolati in una nazione che magari ancora non conoscono. Serve un cambio di sistema, un cambio di direzione, ha ribadito più volte l'arcivescovo nel suo discorso agli amministratori, ringraziando anche i giornalisti e tutti coloro che sono in prima linea in Ucraina per mostrare al mondo quello che succede affinché non cali l'attenzione sulla guerra. Quello che sta succedendo ci sta chiedendo una conversione, convertire la politica intesa come dominio e soprafazione a una politica del servizio, servizio alle persone, servizio al bene comune, al bene di tutti e non di gruppi o di parte, servire la legalità, servire i più deboli. E continuiamo a parlare di Ucraina e della guerra. Vi raccontiamo la storia di tre autisti della Contram che hanno percorso 4.000 km in tre giorni per portare in Italia in salvo 43 profuli scappati appunto dalla guerra ha raccolto per noi la loro testimonianza il nostro Roberto Propersi. È stato un viaggio diverso, cioè proprio non ha niente a che vedere con i viaggi normali, con il turismo che facciamo. Questo è stato un viaggio molto toccante, vedi cose che non vorresti mai vedere. Cose che non vorresti mai vedere, così Luigi Pascucci inizia il racconto di un vero e proprio viaggio della speranza. L'autista della Contram e due suoi colleghi Jonathan Maggi e Mauro Casali sono stati i protagonisti di una bella storia. La loro missione era per il comune e la parrocchia di Belforte del Chienti con il vice parroco Don Salvatore, la vice sindaco e assessora ai servizi sociali Carla Budassi e Angelo, un volontario in partenza per andare a prendere 25 cittadini ucraini. Il viaggio di andata è filato via liscio per arrivare in Polonia, al confine con l'Ucraina, nella cittadina di Prezmilz. È un centro commerciale che è stato riconvertito in struttura umanitaria. C'erano due signori della protezione civile nazionale che avevano lavorato in Contram con il terremoto, quindi conoscevano il presidente e quindi automaticamente c'è stato questo aiuto reciproco che ci ha trovato un posto dove alloggiare. Passata la notte, la mattina successiva si doveva ripartire con il gruppo concordato ma l'alta richiesta e lo spazio nel pullman hanno portato alla decisione di far salire in totale 43 profughi. Abbiamo fatto diverse etappe tra cui Tarvisio subito alla frontiera con dei controlli abbiamo lasciato alcune persone, alcune a Padova, alcune a Bologna, Ancona, Civitanova e poi dopo le ultime circa 30 persone sono rimaste a Belforte. E proprio a Belforte l'accoglienza è stata molto calorosa. Siamo passati avanti le scuole che sono scesi i ragazzini con i striccioni per fargli applausi e poi li abbiamo portati in barrocchia, anche lì c'era parecchia gente ad accoglierli quindi è stato un momento abbastanza molto emozionante. Emozionante come tutta la loro esperienza che li ha toccati nel profondo. Noi che siamo qua sembra che ci manca sempre qualcosa e invece abbiamo tutto perché lì c'è gente che è partita veramente con un semplice trasportino con il gatto perché altro non aveva, quindi gente che non ha un centesimo. Ci fermavamo ogni due o tre ore perché il bagno di bambino, quello che si sentiva poco bene è stato abbastanza difficoltoso però bene o male ce l'abbiamo fatto. Il terremoto da noi è stato brutto ma questo è ancora peggio, spero che finisca presto perché venendo a casa le persone erano proprio sconvolte. L'arrivo di un bambino insieme alla sua mamma che mentre la mamma mi dava i bagagli il bimbo mi dava il suo di bagaglio e era un tricicolo che si è portato via da casa, nient'altro. E ora passiamo alla cronaca, un impero del falso con borse e scarpe di noti marchi quasi identici agli originali, ben 1400 persone coinvolte come acquirenti. Tra le menti dell'operazione una giovane marchigiana di 27 anni di Cupra Montana e l'esito dell'operazione anti-contraffazione fake shopping della Compagnia della Guardia di Finanza di Iesi. Sette le persone indagate tra le province di Ancona, Macerata, Palermo e Barletta. Andrea Trani, i denunciati si occupavano di intercettare potenziali clienti, concordare il prezzo dei prodotti di lusso, prezzo molto più basso degli originali e organizzare le spedizioni dalla Cina, paese dal quale partivano tutte le spedizioni della merce acquistata che poi arrivavano direttamente all'acquirente. Il meccanismo dietro il falso funzionava così su Instagram venivano inseriti dei link che pubblicizzavano prodotti analoghi a quelli delle grandi firme, prodotti però privi di marchio e senza prezzo per non attirare l'attenzione. Dopodiché i clienti venivano contattati privatamente su Instagram, su WhatsApp mediante messaggi privati e lì si scopriva la vera natura dei prodotti di lusso cioè si scopriva che si trattava di merce contraffatta. Scelto il prodotto il cliente procedeva al pagamento in forma anticipata mediante accredito su carte poste pay e poi appunto avveniva la consegna. I finanzieri hanno ricostruito ben tre anni di acquisti del falso dal 2017 al 2020 per, come vi dicevamo all'inizio, 1.400 clienti finali rintracciati, sanzionati ognuno per una cifra di 200 euro a titolo di violazione amministrativa per un totale di 284.000 euro. Quindi un'indagine veramente molto ampia da parte della finanza. Ed ora voltiamo pagina. Il sisma, un fondo di 200.000 euro per i familiari delle vittime dei terremoti dell'Aquila. Fino ad oggi approvato in Commissione Ambiente. Il testo si punta però ad arrivare al fondo nella legge di bilancio a fine anno. Ci spiega tutto la nostra Linda Cittadini. Dal 2009 ad oggi sono state 668 le vittime dei terremoti in Italia partendo da quello dell'Aquila esattamente 13 anni fa dove persero la vita 309 persone. Poi il sisma in Emilia nel 2012, 27 vittime. Il terremoto del 24 agosto 2016 tra Marche e Lazio dove morirono sotto i crolli 299 persone. Di lì a pochi mesi, a gennaio 2017, arrivarono scosse e neve e altri 29 morti. Poi ci furono le due vittime del sisma di Casa Micciola in Campania nel 2019 e le scosse in Sicilia nel 2018 e nel 2021, con altri due decessi. La Commissione Ambiente della Camera, con la relatrice di maggioranza, Patrizia Tersoni, deputata marchigiana del Movimento 5 Stelle, ha approvato un testo che prevede un indennizzo di 200 mila euro per i familiari stretti di ciascuna vittima. È stata distrutta sì la vita sociale, è stata distrutta sì le case, ma purtroppo sono state distrutte intere famiglie proprio a causa di questi decessi. Quindi questo è solo un modo per far vedere che la politica e lo Stato, ma soprattutto lo Stato, è vicino a queste famiglie, a queste vittime. Questo qui è un testo base che raccoglie le proposte di tutti i partiti politici presenti nella mia Commissione e come relatrice di maggioranza ho chiesto proprio di fare un testo base che le racchiudesse tutte in modo tale da non avere un colore politico, ma che fosse un testo unanime di tutte le forze politiche, tant'è che è stato proprio votato l'unanimità. Da questo testo poi partiranno una serie di interlocuzioni ufficiali, sia con la Presidenza del Consiglio che detiene la delega alle ricostruzioni dei sismi, ma soprattutto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze proprio per trovare il budget necessario per coprire questa legge, per arrivare appunto alla legge di bilancio. La cifra di 200 mila euro ricalca l'indennizzo previsto per i familiari delle vittime del 18 gennaio 2017, quando il resort di Rigopiano in Abruzzo si trasformò in una tomba di crolli e neve. Qui c'è ancora un'inchiesta giudiziaria in corso. In quel caso lì, giustamente, sono state indennizzate alcune vittime, ma sono state abbandonate tutte le altre. Ed ora la pagina legata alla pandemia. Prosegue il calo dell'incidenza del contagio da Covid nella nostra regione. Ed ora ci facciamo aiutare con la grafica. I nuovi casi sono 1.885, il 39,4% dei 4.785 tamponi analizzati. L'incidenza, dicevamo, è in calo. Aumenta però il tasso di occupazione delle terapie intensive, che sale al 3,9%. 10 pazienti Covid su un totale di 256 posti letto. Tasso di occupazione in aumento anche nei reparti non intensivi, dove ci attestiamo al 22,2%. Diminuisce la percentuale di pazienti in attesa di ricovero, che sono 31,7 rispetto a ieri. Le vittime, purtroppo, sono due nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 3.757. Venendo ai dati del contagio per provincia, come sempre Ancona è quella con il maggior numero di positivi, con 553 casi, a seguire Pesaro-Urbino con 348, Macerata con 344, Ascoli-Piceno con 330, Fermo con 236. 74 invece i casi provenienti da fuori regione. E scatta anche nelle Marche la quarta dose per over 80 ospiti delle RSA, over 60 fragili e appartenenti alle categorie a rischio. Tutte le informazioni sul nostro sito internet. Come dicevamo, l'indicazione sulla quarta dose, che arriverà a breve per queste categorie, sarà effettuata con vaccino a mRNA, nei dosaggi che erano già autorizzati per la dose booster, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo. Quindi ci saranno a breve tutte le indicazioni sulla quarta dose per queste categorie. Ed ora voltiamo pagina. Un tuffo nel passato, nell'entroterra sostenibile e spesso dimenticato. Tornano i treni storici sul triangolo Ancona-Fabriano-Pergola. Vediamo. Storici sul triangolo Ancona-Fabriano-Pergola. Un tuffo nel passato, nell'entroterra sostenibile e spesso dimenticato. Dopo i lavori sulla linea eseguiti lo scorso anno, saranno 20 complessivamente gli eventi in treno storico previsti per il 2022. Dal 18 aprile al 18 dicembre, tre saranno effettuati con locomotive a vapore. Un accordo tra Regione Marche e Fondazione Ferrovie dello Stato che andrà avanti fino al 2024. È una forma di turismo nuovo, colto, sostenibile, che porta davvero il turista nelle eccellenze meno conosciute, in questo caso, della Regione Marche. Quindi ci dà ragione di investimenti anche importanti e ci danno ragione sui numeri. Le prime tre corse del 2021 in sold out, 20 corse ma oramai la strada ferrata e tracciata per avere addirittura un servizio storico turistico come in Europa, fine settimanale, sulla tratta che dall'Adriatico porta a Pergola transitando per Fabriano. Nel 2023 inoltre via i lavori per la riqualificazione dell'ex officine di Fabriano con l'obiettivo di favorire la fruizione dei locali dell'antico deposito locomotive grazie ad un finanziamento di 2 milioni e 500 mila euro. Un polo museale all'interno della nostra regione e questo hub sarà quello di Fabriano dove avremo anche il deposito e quindi la possibilità di fruire e di visitare i locomotori a vapore di Fondazione Ferrovie dello Stato. Quegli stessi locomotori che in alcuni periodi dell'anno sfrecceranno a favore dei turisti lungo le nostre tratte ferroviarie. Ed ora lo sport, il calcio, terz'ultima di campionato in Serie C. Vediamo com'è andata tra Ancona e Vispesa, peserò nel servizio del nostro Andrea Fiano. Gioie e dolori nel finale di partita. La Vispesa chiappa un punto a Olbia, l'Ancona Matelica ne perde due a Siena. Entrambe però hanno di che sorridere. La formazione di Banchini muove la sua classifica aggiungendo un mattoncino nella costruzione verso i playoff. Quella di Colavitto invece conquista la matematica certezza di parteciparvi ai playoff. Manca solo da definire la posizione. Al franchi i Dorici si illudono di fare il colpo grosso dopo un primo tempo in sofferenza perché Delcarro, sempre lui contro il Sena, visto che era stato il mattatore nella rimonta dell'andata, è sottoporta il primo a scaraventare in rete il vantaggio. Poi l'Ancona Matelica spreca qualche chance per chiuderla mentre i padroni di casa rimangono pure in dieci. Nel recupero la beffa, punizione di Cardoselli che si stampa sulla traversa e poi sulla schiena di Avella. Il più lesto è Ardemagni che fa 1-1. Fermata quantomeno l'emorragia di risultati dopo due sconfitte consecutive e dopo 4 KO di fila in trasferta per l'Ancona Matelica. In Sardegna la vis va sotto alla mezz'ora e di Ragazzo il gol che manda avanti l'Olbia che poi, pochi minuti dopo, può anche andare sul doppio vantaggio ma dal dischetto il bomber di casa non è freddo quanto basta e spreca tutto. Secondo tempo, con palle gol dall'una e dall'altra parte ma a crederci di più sono i pesaresi che non si arrendono e hanno il merito di agganciare il pari al secondo minuto di recupero con una bellissima conclusione dalla distanza di Marcandella. Due pareggi dal sapore diverso ma un obiettivo finale unico per Ancona Matelica e Vispesaro. I play-off. Dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano al Vinitaly di Verona e TV Marche in diretta per raccontare la voglia di ripresa dell'offerta turistica e denogastronomica della nostra regione a partire da domani, domenica 10 aprile alle 10.30 e fino alle 17.30 il racconto in diretta con il nostro Maurizio Socci da Milano con ospiti d'eccezione anche Roberto Mancini poi tante novità e spazio al gusto soprattutto al vino direttamente dal Vinitaly di Verona. Il live di ETV sarà in onda domenica, lunedì e martedì dal 10 al 12 aprile. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata con i programmi di ETV.